Maltratta la moglie davanti ai due figli minori, la riempie di offese e minacce fino a porre in essere atti di disprezzo. Per il reato di maltrattamenti in famiglia, un 48enne albanese residente a Raiano è stato condannato oggi dal giudice monocratico del Tribunale di Sulmona, Francesca Pinacchio, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione, considerando le attenuanti generiche, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Non solo un maltrattamento perpetrato davanti ai figli di sei e nove anni, ma non avere proprio omigliazione della persona, stando almeno al quadro accusatorio contestato all'imputato. I fatti sarebbero stati commessi dall'aprile 2015 al 19 giugno dello stesso anno. Secondo la Procura, l'uomo avrebbe posto in essere una serie di atti lesivi dell'integrità fisica e morale, della libertà e del decoro, consistiti in continue minacce, atti di disprezzo, offesa alla dignità, nonché a violenze fisiche che hanno costretto la vittima ad abbandonare l'abitazione. Più volte la donna sarebbe stata apostrofata con i gravi epiteti, anche a sfondo strettamente personale. È stata la diretta interessata, durante il processo, ad allargare l'imputazione, declinando la violenza nelle varie forme, fisica e sessuale. Un quadro probatorio solido per l'avvocato della vittima, Alessandro Baldassarre, mentre il legale della difesa, Daniele Di Bartolo, annuncia ricorso in appello per le incongruenze che sarebbero emerse con il procedimento in sede civile, nel corso del quale la donna non avrebbe fatto alcuna cena alla violenza e ai gravi fatti contestati al suo ex. Ma il tribunale, ritenendo l'accusa fondata, ha pronunciato la sentenza di condanna. Al di là del caso di specie, la battaglia contro la violenza sulle donne va fatta soprattutto sul piano culturale, sovvertendo approcci e paradigmi.